ciao a tutti i ragazzi e ragazze bentornati sul canale di jored prima di proseguire con il video vi invito se vi va di mettere like al video e iscrivervi al canale per avere altri aggiornamenti iniziamo è andata in onda una nuova puntata dell'isola dei famosi 2024 in questa puntata c'è stato un brutto infortunio per marina suma la concorrente è caduta a terra durante una prova immunità la caduta ha richiesto l'intervento dei medici che sono accorsi immediatamente per visitare la concorrente tutta colpa del gioco che prevedeva che i due concorrenti sfidanti fossero entrambi legati con una cintura alla vita con l'intento di ostacolare l'uno all'altro per posizionare una bandiera a marina suma è toccato sfidare pietro fanelli dopo un primo tentativo andato a vuoto nel secondo atto pietro ha tirato troppo la corda suma è stata strattonata andando quindi con la schiena all'indietro nulla di grave ma per ora marina rimane sotto controllo per il momento ho concluso questo piccolo video news un grosso abbraccio alla prossima news